Buonasera, il comunicato, la nota Palazzo Chigi l'ha diffusa verso le 16, poco dopo le 16, a metà pomeriggio. Una condanna pesantissima degli attacchi anarchici di queste ore, l'ultimo questa notte a Roma contro una stazione della polizia. Lo sentirete, sentirete esattamente cosa c'è scritto nel comunicato. Pesantissimo perché non solo precisa che le istituzioni non si faranno intimidire, ma aggiunge che non ci sarà nessuna concessione sul regime detentivo nei confronti di chi è condannato ad attacchi terroristici. Insomma, è evidente il riferimento, nessuno sconto ad Alfredo Cospito, detenuto in regime 41 bis in difficili condizioni di salute, visto lo sciopero della fame che porta avanti da oltre 100 giorni. Sul caso Cospito il governo proclama la linea dura, nessun passo indietro sul 41 bis al militante anarchico che rischia la vita in carcere dopo 100 giorni di sciopero della fame. Palazzo Chigi alza il livello dell'allarme dopo gli attentati, le minacce, le manifestazioni violente. Una durissima nota, uscita nel pomeriggio da Palazzo Chigi, proclama che azioni del genere non intimidiranno le istituzioni, tantomeno se l'obiettivo è quello di far allentare il regime detentivo più duro per i responsabili di atti terroristici. Lo Stato non scende a patti con chi minaccia. E per tutto il giorno si susseguono dichiarazioni dello stesso tenore da parte di esponenti della maggioranza e non solo. Il ministro dell'interno Piantedosi scrive che mai lo Stato si farà intimidire, che nessuna rivendicazione o proposta può essere presa in considerazione se viene portata avanti con ricorso a questi metodi, ancor più se rivolti contro le forze dell'ordine. Il ministro della giustizia Carlo Nordio sarà in Parlamento a rispondere sul caso Cospito martedì, ma intanto è un fuoco di fila contro qualsiasi iniziativa umanitaria. Lucio Malanna, capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, afferma che gli atti violenti sono il massimo ostacolo ad ogni cambiamento delle condizioni di detenzione di Cospito. Il capogruppo alla Camera del partito della Premier Foti va oltre. Comportamenti delinquenziali messi in atto dai suoi asseriti sostenitori fanno ritenere che la cosa migliore sia il mantenimento del 41 bis. Anche Maurizio Gasparri di Forza Italia va giù duro. Voglio sperare che nessun magistrato o altra autorità si inginocchi di fronte a queste azioni criminali degli anarchici. Nessuna cancellazione del 41 bis ha questo Cospito. E chi difende gli anarchici è criminale come loro. Ma anche dal terzo polo non si vedono aperture, lo Stato non arretri di fronte al terrorismo, si limita a commentare Italia Viva con Raffaella Paita. Oggi tace Carlo Calenda che pure nei giorni scorsi si era pronunciato per un trasferimento di Alfredo Cospito. Non è un eroe ma non ha nulla a che fare con il regime del 41 bis se è in condizioni precarie e va trasferito. Linea del PD Walter Verini in un appello per evitare che Cospito muoia in carcere in attesa della Corte. È giusto trasferirlo in un centro clinico in attesa del pronunciamento della Cassazione. Verini condanna ogni violenza ma dice inammissibili le dichiarazioni di certa destra che equipara posizioni umanitarie con atti terroristici. Luana Zanella dei Verdi chiede di intervenire per salvaguardare la vita di Cospito notando che le minacce dei violenti sono dannose alla stessa causa dell'anarchico detenuto a Sassari.